Un lavoro minuzioso e di pazienza, questo alla base delle realizzazioni esposte da Lucio Tommasso a Montagano. Una mostra di mosaici dal titolo Il racconto delle pietre più piccole. Le opere sono il risultato di questa tecnica decorativa attraverso cui l'artista ha dato vita ai suoi disegni utilizzando dei frammenti di pietra. Una esposizione ricca tra cui spicca la riproduzione in scala della chiesa di Santa Maria della Strada di Matrice. Quello che poi mi piace di più perché è un lavoro che io già facevo da prima. Ho iniziato questo lavoro qui, questo dalla Madonna della Strada, è stato proprio quello che mi ha preso perché farlo in miniature è molto più difficile. E quindi quello che mi piace di più, che penso io che ho realizzato è questa chiesa. Ma il mosaico è arte? Lo abbiamo chiesto al critico giornalistico Lucio Zampino. È certificato che è arte perché risale all'epoca di Mosè e tutti i dizionari interpellati dallo Zincarelli a Treccani, che è il massimo, riconoscono quest'arte che ha queste radici molto antiche. Quindi è arte, è arte vera. È forse più difficile di molte altre che si apprendono, però non nascono dentro. L'arte del mosaico, del mosaicista, è arte vera. Montagano è una comunità che crede nella promozione della cultura. Ciò che connota il nostro paese è un'impronta marcata e significativa per quanto riguarda l'attenzione alla cultura, iniziative in ambito culturale. In effetti noi abbiamo aderito da anni ai borghi della lettura, abbiamo un referente comunale che porta avanti da tempo delle iniziative costanti e sistematiche che ora a causa del Covid sono state un po' scompaginate dal punto di vista del calendario degli eventi. Tutto questo sta a testimoniare, io credo, un fermento, una vivacità culturale che c'è innegabile all'interno del nostro comune, che avrà tanti difetti, però sa esprimere pure delle personalità e sicuramente delle situazioni di grosso interesse intorno alla cultura. Lucio Tomasso è uno degli esempi per l'appunto di cittadini che qualificano la peculiarità di Montagano come paese attento alla cultura e che ha saputo manifestare pure dei degni rappresentanti. La mostra è visibile in corso Umberto I fino al 18 agosto.